Ciao a tutti oggi vi vorrò vedere un altro video sempre su Clash Royale e diciamo qua il mio quarto video questa volta però non sono sempre in arena 1, sono in arena 2 a differenza dell'altra volta iniziamo, facciamo il primo attacco vedremo cosa combinarmo oggi allora allora vediamo bene, fammi la tua, non c'è nessun problema non c'è nessun problema non so se non c'è quella del bianco questa qua non c'è nessuno non so non so quanto roba metti guarda il resto che si mangia colazione adesso questo qua non ha il mini petto però non c'è nessuno si non so non so non so non so non so stai a scocchiere adesso ah manca... ah c'è l'altro lì l'ho fatto c'è l'altro lì ok e vai che ca non si che 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 go a 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 dai 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 no 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 che sfiga vabbè ha fatto solo mezzo un attacco però poi ci vedremo la prossima volta ciao spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettetemi un like